Il Comune di Trieste ha risolto il nodo legato alla mancanza di un vano infermeria ai topolini, requisito richiesto dall'ordinanza di sicurezza balneare redatta dalla Capiteneria di Porto di Trieste. Vista l'estensione del lungomare, il Comune è stato chiamato a predisporre due punti infermeria, uno al secondo e l'altro al settimo topolino. I vani devono includere necessariamente un lavandino e disporre di acqua corrente, più tutta una serie di strumenti di varia natura per consentire un primo soccorso qualora necessario. Come ad esempio guanti immunouso, disinfettante, garze sterili, bende, cerotti e ghiaccio istantaneo. I danni delle mareggiate hanno compromesso il locale del settimo topolino, aspetto che aveva inizialmente contribuito al divieto di balneazione che il Comune ha istituito per la mancanza dei bagnini, aspetto anche questo in fase di risoluzione con l'arrivo della quota minima di personale, ovvero quattro figure, nel giro di una settimana circa. L'indisponibilità dunque del settimo topolino è stata sopperita individuando nel decimo un vano idoneo a ospitare il locale infermeria, per cui proprio oggi sono partiti i lavandino e l'aggancio alla rete idrica che si completeranno lunedì. Il divieto di balneazione però rimane per la mancanza dei bagnini. Questi saranno individuati a breve, ha spiegato oggi l'assessore comunale Elisa Lodi, aggiungendo che spesso si tratta di giovani studenti che in possesso dei requisiti prestano lavoro stagionale ed è più facile individuarli a metà giugno, quando molti degli impegni universitari volgono al termine.